Onorevole Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l'Italia, Francavilla per presentare le linee programmatiche del partito in vista delle prossime elezioni politiche. Noi con l'Italia sarà presente nelle liste della coalizione del centro-estera e sarà presente con una proposta molto chiara e molto netta. Riportare nel centro-destra la serietà, la competenza, la credibilità, la concretezza. L'idea è che dobbiamo presentarci agli elettori come coalizione di governo che governerà l'Italia del 2027 e credo che alla coalizione di centro-destra serva questo tipo di proposta politica. Siamo in campo, lo siamo perché vogliamo bene a questo paese, dal nord come al sud e questa è la sfida che portiamo. La vostra è una proposta di un centro-destra moderato, siete la parte più moderata del centro-destra. Essere moderati vuol dire avere non solo le idee chiare ma sapere che la politica è mettersi al servizio della propria comunità, mettersi al servizio dei cittadini. Essere moderati vuol dire capire che il protagonista di una società dell'Italia sono i cittadini e che lo Stato si mette al servizio dei cittadini. E quindi vuol dire capire per esempio e dare risposte molto concrete a dei giovani che hanno il diritto di costruire il futuro ma non li si possono aiutare con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Ma capire che l'equità sociale avviene attraverso il benessere e il benessere lo danno le imprese. Per cui se un'impresa vuole dare 200 euro di aumento in un momento come questo a un suo dipendente ne deve pagare 540. Quindi le risorse mettiamole per azzerare le tasse del cuneo fiscale e dare tutte queste risorse agli operai. In Abruzzo la squadra è pronta? È pronta, abbiamo coinvolto amministratori, professionisti, giovani e meno giovani. Quello che a noi è donne, quello che a noi interessa è che se promettiamo che in politica torni la competenza, la serietà, la credibilità, le persone che con noi con l'Italia si schiereranno debbono testimoniare che nella loro vita questa capacità, questa serietà e questa competenza e innanzitutto questa passione per la politica che poi è gratuita al servizio della propria comunità. È una regione governata dal centro-destra e ha dimostrazione che chi agita lo spauracchio della destra al governo lo fa solo per spaventare o perché non ha ragioni. Governiamo insieme col centro-destra tante regioni in Italia, la maggioranza delle regioni in Italia. L'Abruzzo è governata dal presidente Marsiglio che tra l'altro è un esponente che viene da Fratelli d'Italia. La sfida dell'Abruzzo come la sfida del centro-sud è quella di valorizzare le proprie competenze e di chiedere che le risorse e le eccellenze che ci sono in questo territorio possano essere messe a disposizione, non solo il turismo ma innanzitutto le grandi capacità imprenditoriali e industriali che abbiamo.